allora buonasera a tutte e buonasera a tutti e benvenuti a questa serata del python biela group dedicata a xg boost che uno dei più famosi e tra virgolette moderni e di moda modelli di machine learning ce lo ce lo presenterà marco zamboni che originario di trento ma attualmente lavora come data scientist a zurigo da otto anni diciamo è appassionato di python e comunque durante la sua presentazione ci si presenterà da solo anche più avanti quindi lo conosceremo meglio come sempre dico due parole sul nostro gruppo sulla nostra comunità siamo su tutti i social su youtube abbiamo raggiunto i 5 di oltre 500 iscritti su telegram oltre 200 siamo molto orgogliosi di questi numeri ma vogliamo crescere ma non tanto per per dire che siamo in tanti ma perché è bello crescere insieme imparare insieme che con i contributi di tutti voi quindi soprattutto sul nostro canale telegram che è molto attivo vedete come ci sia uno scambio di informazioni e di e di consigli ringrazio maria teresa andrea e davide per la per l'organizzazione del gruppo e vi ricordo che diciamo nel link link tree python biela group abbiamo tutti i nostri link social adesso siamo presenti praticamente su tutti i social compreso twitter instagram facebook e tutte le nostre registrazioni comunque delle nostre serate sono presenti su youtube due parole sul fatto che siamo media partner di del paicon italia 2022 dal 2 al 5 giugno ci sono mi dicono che sono pochissimi posti ancora disponibili quindi affrettatevi tra l'altro se vi iscrivete al nostro canale telegram avrete anche disposizione un codice sconto per potervi iscrivere da qualche giorno siamo anche media partner delle django girls che hanno nell'ambito del paicon organizzato un workshop di programmazione con di django e python affrettatevi in questo link è il link per iscriversi e attenzione perché le iscrizioni all'evento terminano in data 8 maggio quindi avete ancora poco tempo per iscrivervi a questo punto non ci resta che iniziare il materiale delle serate le troverete come sempre su in github e adesso interrompo la condivisione per passare la parola a marco intanto ciao a tutti ringrazio python biella group per per l'occasione di di darmi una serata per per parlare un po di di machine learning in particolare questa sera di xg boost e allora un po di premesse sarà una serata un po teorica e andremo più che su xg boost in particolare per tutta la serata andremo a costruire piano piano da partire da zero machine learning passo per passo per andare a capire i concetti principali di xg boost per non essere troppo noioso ho provato a mettere un po un po di codice nel mezzo e essendo abbastanza teorica per chi non ha background alcune cose potrebbero essere difficili o poco chiare in particolari poco chiare per per colpa mia io provo a spiegare meglio che posso se avete qualsiasi genere di domanda bloccatemi tanto abbiamo due ore c'è tutto il tempo che che vogliamo anche per discutere ci saranno giusto un paio di slide dedicate a chi è del settore ma ci andrò velocemente lo dirò se lo dirò se in qualsiasi altra slide non ci state capendo niente fermatemi e ci torniamo sopra quindi allora ho avuto problemi di connessione mentre mentre mi presentavano quindi non so cosa cosa è stato detto ma velocemente io sono uno studente nel master in data science a a zurigo a ith e junior software and data engineer a 42 meters se volete scrivermi per qualsiasi motivo che possa legarsi a python o a machine learning o simili scrivete sul gruppo telegram di python biella mi potete taggare o se volete scrivere per motivi personali c'è link diretto che dovrebbe creare una chat con me penso e link 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 in se volete connettervi o per qualche motivo volete scrivermi un messaggio lì meglio telegram però ok partiamo con un po di concetti di introduction to machine learning intanto partiamo da dal problema che vogliamo risolvere problema è classificazione abbiamo oggetti che torino avanti chiameremo dati e vogliamo segnarli di solito una classe potete vedere dai miei bellissimi disegni fatti a mano banane miele arance e il nostro problema è prendere singolo frutto e cercare di capire se è una banana una mela un'arancia questo per fare un esempio di di un problema di classificazione e voglio risottolineare per chi proprio un insegnante di machine learning un algoritmo di machine learning va a un po di problemi buonasera nick un algoritmo di machine learning non ha in output la risposta a questo frutto in particolare una banana ma ha in output una funzione che poi sarà capace di processare dati sconosciuti per determinare che tipo di frutto è quindi se quando scriviamo codice classico abbiamo in input dati e in output il risultato in machine learning abbiamo di solito in input dati in classification è un caso di di supervised learning quindi dati a cui sappiamo già il risultato che vengono messi dentro black box algoritmo di machine learning per avere in output poi quella funzione che sarà capace di rispondere a quella che è la domanda di classificazione per dati sconosciuti andiamo su un esempio vogliamo classificare persone come ricche o povere arrivo vogliamo classificare persone come ricche o povere questa semplificazione vediamo le persone ricche come persone che hanno grandi entrate grandi entrate o tante azioni o in particolare sia tante azioni che tante entrate e persone povere invece chi ha poche entrate o poche azioni o in generale poco di entrambe e questa visualizzazione è diciamo una conoscenza a priori è una conoscenza a priori che di solito non abbiamo però qui per chiarezza poi quando vado a spiegare per chiarezza può essere utile quello che abbiamo di solito sono punti data point qualcosa di questo genere non abbiamo tutta la distribuzione abbiamo dei dati di cui sappiamo se la persona è ricca o povera sappiamo il suo income sappiamo quanti azioni ha e alcuni adesso come puntini blu ho messo le persone povere come i croci rossi quelle ricche lascio diciamo la linea verde come come riferimento comunque sottolineo che non è una cosa che di solito si sa si come dati se non solo siamo i puntini e le croci ho aggiunto i puntini neri sono dati di che di cui non sappiamo niente su cui poi faremo l'inference e questo è un dataset abbastanza ideale nella realtà abbiamo più qualcosa di questo tipo dove ci sono degli errori ci sono degli errori ci sono persone che dalla nostra conoscenza a priori dovrebbero essere povere ma il dato dice che sono ricche o viceversa e ok questi sono di solito i nostri dati che abbiamo e diciamo il nostro obiettivo è costruire un algoritmo che sia capace di di trovare quella che è la linea verde quindi come si fa? di solito si fa minimizzando una un object function cioè si cerca di minimizzare una determinata funzione la funzione può essere ad esempio una loss function cui ad esempio è semplicemente identità se l'output cioè se 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 ciò che è previsto è uguale o diverso rispetto a ciò che sapevamo e si può fare mettiamo black magic di statistica minimizziamo questa funzione e in questo caso probabilmente troveremo quella che è la linea gialla che è una una funzione che ottimizza e minimizza gli errori in particolare la linea gialla fa in modo che non ci sia nessun errore perché tutte le croci rosse sono sopra e tutti i puntini blu sono sotto però anche anche a vista vediamo non è una buona approssimazione dei cioè non è un buon risultato non si allinea bene a quella che è la linea verde infatti stiamo diciamo facendo overfitting e e e quindi diciamo la minimizzazione di di semplicemente la loss non è ideale quello che si fa è che l'object in function non è solo la loss ma è la loss più un'altra funzione che chiameremo che è chiamata regularizer cioè vogliamo regolarizzare i nostri risultati in modo da penalizzare soluzioni complesse come definiamo complessità o semplicità in questo caso ci possono essere diversi modi a patto che siano poi definibili matematicamente però non so in questo caso potrebbe essere la smoothness della 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 funzione o magari se stiamo imparando un polinomio il grado del polinomio polinomi ad esempio se questo fosse un polinomio serve un polinomio di grado abbastanza alto per avere tutti questi su e giù oppure la dimensione dei parametri o altri modi e se aggiungiamo un regularizer e proviamo a minimizzare questa volta l'objective function potremmo trovare quella che è la linea gialla magari stiamo sovra regolarizzando perché otteniamo una linea quando in realtà il nostro risultato voluto è qualcosa di leggermente più complesso qui è diciamo un po' da giocare e parametrizzare bene la loss function e regularize in modo da ottenere i risultati migliori possibili in ogni caso voglio stilineare che probabilmente una soluzione che trova la linea gialla per me è una soluzione migliore di questa linea gialla qua tutta su e giù e comunque qua siamo ancora parlando un po' matematicamente in modo astratto andiamo sul pratico fra qualche slide ma ho voluto fermarmi su questo concetto per parlare di uno dei punti fondamentali del machine learning il cosiddetto bias variance trade off e cioè che ok faccio un passo indietro cosa si intende per bias in contesto machine learning si intende conoscenza a priori che si mette quando si si allena il modello conoscenza a priori può essere di fatto il regularizer perché andiamo a a cercare forzatamente soluzioni semplici invece di permettere a la nostra black box di trovare qualsiasi genere di soluzione e e quindi diciamo questa è una soluzione ad alto bias questa è una soluzione che non ha quasi nessun bias e con bias variance trade off si intende che soluzioni ad alto bias hanno spesso una varianza abbastanza bassa e se vogliamo chiamare varianza in modo semplice e questo andare su e giù di questa funzione si mappa un po' al fatto che è una soluzione con alta varianza mentre soluzioni con basso bias sono soluzioni che tendono ad avere molta varianza e di fatto segue un po' questa curva in cui ciò che c'è sopra la curva è lo spazio delle soluzioni possibili le soluzioni migliori sono le soluzioni che si trovano su questa curva e va un po' gestito il livello di bias per ottenere un trade off abbastanza buono tra quanto bias mettiamo e quanta varianza otteniamo non vogliamo soluzioni con troppo bias perché sono soluzioni underfitted cioè performano generalmente male anche in fase di training e non vogliamo soluzioni senza alcun bias perché c'è molta varianza magari c'è un'alta performance in fase di training ma poi in fase di test la soluzione performa male perché ha imparato troppo bene il training set e non generalizza ok passiamo ai modelli cambio argomento se avete domande vi consiglio sempre di farla anche in chat anche se un po' di difficoltà ad aprirla ma se ne dite a voce va benissimo se si domanda in chat comunque te le leggo io non preoccuparti ottimo grazie per non non ho capito se c'era una domanda o se era un no no è chiaro ok allora parliamo di dei decision trees perché parliamo dei decision trees perché sono il modello la base di xgpust torniamo alla prima slide e ci dimentichiamo un po' di machine learning e pensiamo come potremmo scrivere una funzione in python che faccia classification un esempio banale potrebbe essere questa funzione classifier c'è un check ad esempio su il frutto è rotondo se il frutto è rotondo controlliamo se è rosso nel caso sia rosso ed era rotondo allora una mela se era rotondo ma non è rosso un'aranza altrimenti se non era rotondo una banana ovviamente qui il problema è definire cosa significa è rotondo cosa significa rosso che non è ovviamente non è banale perché rotondo non deve essere per forza un cerchio perfetto e rosso non deve essere per forza ff0000 ma diciamo ma concettualmente potrebbe essere qualcosa di questo tipo se astraiamo il codice python e proviamo a vedere che struttura lati rappresenta è di fatto un albero in cui partiamo dalla radice cioè il nodo che vedete qui in alto e ci facciamo le domande le domande a seconda della risposta possiamo proseguire in un ramo oppure nell'altro e in alcuni casi si arriva a una foglia cioè in fondo all'albero la quale conterrà il nostro risultato in altri casi entriamo in nodi intermedi con altre domande a cui rispondere e proseguire finché arriviamo alla fine dove troviamo dove troviamo il risultato della classificazione passiamo adesso abbiamo visto questa cosa molto generica sulla frutta vediamo qualcosa di un pochino più più reale con dei numeri mettiamo caso di avere il dataset a destra in cui dobbiamo classificare puntini azzurri da croci rossa e l'esatto stesso decision tree che avevamo per la frutta mappato su dei dati numerici e quindi un po' più realistici è qualcosa di questo tipo per ogni nodo ci si chiede se se una feature sia minore o maggiore di determinato numero ad esempio se è minore di 4 e nel caso la risposta sia negativa allora per forza il punto è una croce rossa altrimenti verifichiamo la feature B se se è minore di 200 allora è un puntino blu altrimenti è una croce rossa particolare da vedere in questa slide è che i decision trees vanno a creare dei boundaries lineari diciamo sul feature set quindi vediamo che ogni nodo che pone una domanda sono le due linee verdi e si forma questa sorta di quadrato e esterno di quadrato e comunque fin qua però ci siamo dimenticati di machine learning abbiamo assunto di saper già qual è l'albero e in machine learning noi partiamo dal nulla e vogliamo imparare a costruire l'albero quindi nuova pausa arriva a qualcosa di leggermente più complesso ma penso che questa parte sia abbastanza semplice ok ok impariamo impariamo a costruire un decision tree introduco brevemente il concetto di entropia in ambito in ambito informazione e la formula matematica è quella che vedete in alto a destra e va un po' a rappresentare quanto qualcosa è è caotico o quanto invece è poco caotico come l'entropia anche in fisica e in questo caso la usiamo perché partiamo da un nodo che sarà la radice in cui andiamo a salvare quanti andiamo a ricordarsi quanti puntini blu ci sono e quante croce rosse ci sono ci sono 12 puntini 17 croce e possiamo calcolare l'entropia con la formula matematica e scopriamo che questo nodo ha un'entropia di 0.68 ma in modo più intuitivo è un nodo che ha abbastanza entropia perché ha tanti ha sia tanti puntini blu che tante croce rosse un nodo con bassa entropia o nulla entropia sarebbe un nodo in cui quasi tutti quasi tutti i dati sarebbero o puntini blu o croce rosse comunque un tipo solo ok quindi diciamo di calcolare l'entropia di questo nodo che è 0.68 e assumiamo di sapere come come questo albero prosegue giusto per fissare ritorniamo all'albero di prima l'albero prosegue chiedendosi se ha i minori di 4 e va a creare due nodi figli un nodo figlio in cui ha i minori di 4 nel nodo figlio in cui ha i minori di 4 ci sono 12 puntini blu e 3 croci rosse nell'altro nodo invece non ci sono puntini blu e ci sono 14 croci rosse l'entropia in questi nodi è 0 per quella sinistra perché sono tutte croci rosse e 0.5 per il nodo in cui è minore di 4 e definiamo l'entropia dello split di questo split cioè l'entropia del nodo che è andato a fare queste due scelte come la media tra l'entropia ok siamo ancora in fase di definizioni di termini quindi vogliamo definire il cosiddetto information gain come la differenza tra l'entropia del nodo originale l'entropia dello split il nodo originale è un'entropia di 0.68 meno 0.25 abbiamo un information gain che è semplicemente quante informazioni otteniamo da questo split come 0.43 che è diciamo un indice numerico che va a dire se noi dividiamo questo modo in questo modo quanta informazione in più otteniamo sui dati otteniamo abbastanza informazione in più e proseguendo a fare l'altro split abbiamo anche un information gain di 0.50 quindi come effettivamente si parla di The Season 3 si impara tornando a questo punto provando tutti gli split possibili quindi non lo so a minore di 0 a minore di 1 a minore di 2 a minore di 3 4 5 b minore di 10 a b minore di 100 eccetera e si prende lo split che ci dà il maggiore information gain possibile in questo caso è lo split in cui è minore di 4 se siete interessati algoritmicamente ovviamente non bisogna provare tutti gli split ma 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 si può fare in modo molto più efficiente comunque non importa e lo stesso si fa per tutti i nodi finché non si arriva ad avere nodi con intro che a 0 oppure nodi in cui nessuno split dà un information gain sostanziale in questo dataset l'information gain è sempre alto per questi due split in altri casi potremmo avere che lo split migliore da un information gain di 0.001 e decidiamo di non fare quello split e segnare il nodo come foglia e che classifica a seconda della maggiore classe rappresentata ok qua ho fatto un esempio su su come i decision tri possono essere imparati in realtà non è detto che usiamo l'information gain potremmo usare diverse altre funzioni a seconda dei casi si usano altre funzioni in realtà poco importa si fa lo stesso ragionamento e si prende il massimo risultato si fa lo split in base al massimo risultato della funzione scelta ok questo tutto sul training di un albero torniamo un attimo indietro parliamo del bias variance trade off in ambito d'alberi questo è importante che serve per capire l'utilità e il funzionamento di x-boost prendiamo un dataset di esempio in cui abbiamo dei dati distribuiti fermamente in un quadrato uno per uno in cui i dati hanno una probabilità di essere delle croci rosse di 0.8 se sono intorno al cerchio cerchio tra virgolette ovviamente però e di 0.2 quando sono fuori dal cerchio e puntini di blu viceversa 0.8 fuori 0.2 dentro e chiedo un'interazione con con il pubblico secondo voi un decision tree che che cosa potrebbe imparare come boundary in questo set la funzione del cerchio non so butto lì la funzione della cercoferenza sarebbe quello che che vorremmo però i decision tree hanno diciamo dei band a rilineare non puoi imparare il cerchio impara solo delle linee quindi cioè dovrebbe avere un cerchio perfetto ma dovrebbe avere rami infiniti cosa cioè dovrebbe tendere all'infinito per riuscire a fare un cerchio sì cosa che non facciamo mai tendere all'infinito però ok sì possiamo rilavorare la risposta come non lo so una una scaletta che va intorno al cerchio è una proposta ok do la risposta ovviamente quello che impara dipende dipende dagli iperparametri da come vogliamo imparare da chi iperparametri diamo all'albero due opzioni sono queste qua e cioè se usiamo un albero poco profondo andrà a imparare un quadrato intorno che circonda il cerchio se invece usiamo un albero molto profondo non va a imparare in cerchio va a imparare quadrati attorno a singoli dati diciamo che in questo caso la soluzione migliore è imparare il quadrato semplice con un albero poco profondo perché non facciamo overfitting chiaramente non può imparare la scaletta intorno al cerchio perché potrebbe impararla solo in casi molto particolari in cui abbiamo ad esempio un sacco di croci sulla circonferenza e un sacco di croci sulla circonferenza e alberi profondi e pochi pochi errori cioè pochi punti blu all'interno del cerchio non è un qualcosa di comune però è più facile imparare cose di questo tipo e quindi tornando a discorso di prima bias variance trade off alberi poco profondi sono alberi che hanno un alto bias perché non gli permettiamo di fare tanti split alberi molto profondi sono invece alberi con basso bias ma alta varianza alta varianza che possiamo sempre vedere visualmente un po' come un po' come il fatto che ci siano tanti quadrati ok penso facciamo un po' di pausa dalla teoria e passiamo a guardare un po' di codice allora faccio tutto arriva al passo passo perché non si sa mai se volete recuperare il notebook potete andare sul repo materiale serate su python bella group adesso qua sono sul mio branch ma dovrei pushare e fare la pull request e dovreste trovare nei prossimi giorni anche sul sul repo originario lo scaricate con 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 o con zippo come volete poi vediamo non sono vediate niente ok ci sono un po' poi andate nel repo io l'ho già scaricato qui la cartella per hkx e nella cartella c'è un file environment per avaconda che potete installare con conda con conda nof environment dot yml comunque poi ci sarà un redmi da cui potete copiare incollare i comandi e così create l'environment scaricando tutte le librerie e poi potete semplicemente entrare da activate xboost e sempre da questa cartella lanciare zupyter e nel browser avete tutto pronto ok poi porto librerie rimuovo i warnings per perché a xboost piace alzare un sacco di warning che sporcano le celle carichiamo dati standard di che si trovano in SigtLearn sono dataset conosciuti usati li trovate un po' in tutti i tutorial e adesso qua ne ho preparati tre proviamo a caricare dataset digits se guardiamo il dataset sono un dataset che dovrebbe essere figure 8x8 di 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 cifre però linearizzato e quindi abbia si ha ogni pixel penso sia riga colonna sono infatti 64 così da 4 colonne sono immagini grigie 8x8 per 1.700 e passa cifra e facciamo un semplice pre-processing passo ultraveloce scaliamo i valori diamo un'occhiata al target abbiamo ovviamente le nove possibili cifre questo è un dato abbastanza semplice ogni cifra ha circa la stessa frequenza non ci sono non ci sono non c'è sbilanziamento delle classi non c'è non ci sono non nei dati probabilmente non ci sono neanche outliers quindi dovrebbe essere qualcosa che che tutti i modelli dovrebbero imparare abbastanza bene anche se queste sono immagini e ovviamente qualcosa come una evolution neural network sarebbe il modello go to però è qualcosa di abbastanza semplice quindi proviamo a a trainare un albero su questi dati prendiamo da seek to learn decision tree classifier esiste anche esistono altri alberi tipo il decision tree regressor che è la stessa cosa soltanto che per task di regressione invece che di classificazione e diamo un'occhiata a cosa si offre seek to learn potete farlo direttamente nel notebook io vado faccio il copy e incolla e andiamo un po' sul sito che è un po' più bello da vedere ok e vediamo che parametri abbiamo innanzitutto il criterio vediamo il criterio è il parametro che se torniamo alle slide va a determinare di fatto qual è la funzione che si usa per per scegliere lo split e se può usare o genio o entropi entropi è di fatto information game che ho spiegato geni è un altro metodo un'altra funzione e qua a scelta diciamo che è un iperparametro di solito si fa un po' di cross validation si provano entrambi si vede qual è il migliore stessa cosa per tutti gli altri poi lo splitter è la strategia di di splitting o si sceglie il migliore split possibile oppure si si può anche chiedere a secret di di split a caso il default è il migliore split possibile di solito di solito i default per dataset casuali sono più che ok e max death è la massima profondità dell'albero è un iperparametro di regolarizzazione quanto permette di avere alberi poco profondi e quindi aumentare il bias diminuire la varianza e di default non c'è una profondità massima e il modello impara tutto che crede sia meglio senza un bias su quel livello e poi abbiamo altri iperparametri che possono essere usati per regolarizzare o per provare vedere cosa funziona meglio di solito abito machine learning si provano un po' tutti iperparametri si vede cosa va meglio per il nostro specifico caso sono cose specifiche che non è importante non credo sia importante passarsi sopra adesso infatti io scelgo un modello con tutti i parametri di default scelgo solo un random state fisso per avere sempre lo stesso risultato vediamo come performa facciamo un po' di cross validation tenfold cross validation vediamo gli score per ogni per ogni split dei dati e la media e vediamo che un decision trick è un modello semplicissimo già performa molto bene quindi diciamo il dataset è effettivamente abbastanza semplice ok possiamo tornare alla teoria sempre domande imparare di far ok exemplos con exemplos si intende quei modelli in cui abbiamo più sottomodelli che uniamo e che da cui facciamo qualcosa dei loro risultati per ottenere un risultato finale torniamo a poche slide fa bias variance trade off per gli alberi usando bagging che è un algoritmo di ensemble per gli alberi vediamo che di fatto spostiamo soluzioni di alberi profondi ad avere meno varianza addirittura meno rispetto a quello che è il trade off che ci si aspetta statisticamente perciò è una cosa che accade con gli ensembles si riesce a rompere diciamo la linea rossa e passare a soluzioni migliori e banging è uno dei più semplici possiamo vedere un po' dunque l'idea parte da questo libro qua The Wisdom of Krauss dove l'autore è un libro di sociologia filosofia qualcosa del genere in cui l'autore va a teorizzare che un gruppo di persone è in grado di compiere delle decisioni in modo migliore rispetto alla persona migliore all'interno del gruppo e quindi diciamo se lo passiamo a una versione idealiaca della politica una una democrazia diretta e performerebbe sempre meglio rispetto a un qualsiasi dittatore anche rispetto al migliore dittatore possibile questo ovviamente in politica ci sono centomila altri altri fattori da considerare quindi non ho detto che funzioni ma diciamo quella è l'idea e l'autore porta anche vari esempi di sociologia in cui in cui prova a dimostrarlo e pone anche quelli che sono alcune precondizioni per cui questa cosa funziona queste precondizioni sono in particolare la diversità le persone devono essere diverse tra loro quindi se avessimo anche mille persone in cui però abbiamo due gruppi da 500 che sono tutti gemelli omozigoti cresciuti nello stesso ambiente anche se sono mille persone ed è una folla non c'è abbastanza diversità e quindi si comportano ugualmente a come si comporterebbero solo due persone quindi non una folla e quindi diciamo la teoria non funziona e poi deve esserci indipendenza cioè ogni persona deve scegliere in modo autonomo non dipendente dalle altre se ad esempio c'è un influencer che che prova a convincere ed è capace di convincere una buona fetta di persone queste persone non sarebbero più indipendenti tra loro perché dipendono dall'influencer e quindi si perde questo preconcetto questa precondizione e la teoria non funziona più poi c'è qualcosa che si dà diciamo un po' per contatto e cioè che le persone devono essere migliori che devono fare decisioni meglio che in modo randomico se la persona sceglie tirando una moneta non introduce nessun valore se una persona fa scelte sbagliate fa solo scelte sbagliate o la maggior parte delle scelte sbagliate introduce un valore negativo che quindi va diciamo a rompere la teoria ci sono poi altre precondizioni per quanto riguarda gli umani ma adesso trattiamo a machine learning ci interessano di fatto queste tre e quindi ammesso che si abbia una folla di modelli quindi tanti modelli modelli che sono diversi tra loro indipendenti tra loro e che siano meglio che random quindi modelli che magari hanno anche un'accurasi solo del 51% va bene basta che non sia del 50% o meno anche se diciamo abbastanza dato per scontato qualsiasi modello performa meglio che random o almeno non mi è mai capitato nessun caso in cui performa esattamente random e credo sia impossibile che performino peggio a meno che non si faccia apposta diciamo a meno che non si modifichi l'algoritmo apposta per farle andare peggio diciamo che le implementazioni standard non possono far peggio che random in questo caso in questo caso si ha che il valore atteso dell'objective function dell'aggregazione di tutti i modelli è minore del minimo valore atteso cioè del valore atteso del minimo valore atteso di ogni modello i modelli possono essere aggregati in diversi modi in caso di regression può essere presa la media ad esempio dei vari modelli in caso di classification può essere fatto un consenso quindi semplicemente si vota qual è la classe più scelta dai vari modelli e qui nota se siete confusi a riguardo si usa minore perché quando poi si parla a livello matematico si sta minimizzando cosa si sta minimizzando funzioni anche se poi a parole si dice si parla di accuracy o di performance che quelle andrebbero massimizzate però quando si va matematicamente per diversi motivi cambia nulla ok posto questo motivazioni per cui avere tanti modelli da aggregare sia una buona idea invece che scegliere invece di scegliere il miglior modello possibile vediamo bagging in particolare e prima di vedere bagging magari dico che utilizzare modelli diversi tipo un modello sugli alberi un modello su reti neurali un modello su un modello statistico un modello non lo so svm eccetera è un'ottima idea dal punto di vista di diversity e independence però di fatto modelli così diversi e indipendenti sono limitati ce ne possiamo inventare un tot ma non si va a creare una folla quindi per effettivamente creare una folla si prende un modello base e si cerca di differenziarlo quindi in caso degli alberi avremo una aggregazione di diversi alberi che 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 magari sono meno diversi meno indipendenti che avere alberi e reti neurali però almeno ne possiamo avere cento ne possiamo avere mille ne possiamo avere quanti ne vogliamo e alberi e reti neurali e abbiamo alberi e reti neurali non c'è altro quindi ok vediamo bagging come funziona ammettiamo di avere innanzitutto un un training set quello che vedete in alto in cui vogliamo differenziare cerchi da croce ovviamente c'è una certa varietà tra i cerchi c'è un cerchio un po' più grande largo un cerchio piccolino e varietà tra croci una normale una stretta una che è un più e esempio come esempio da questo training set proviamo a ricavare diversi training set utilizzando bootstrapping cioè selezioniamo dei dati dei dati casualmente dal training set anche in modo ripetuto in modo tale da avere dei set che siano grandi quanto l'originale ma diversi tra loro perché hanno solo un subset di di quelli che sono i dati effettivi possiamo creare k di bootstrap set ho fatto un esempio con tre ed è il primo step per creare differenziazione il secondo è che prendiamo ogni singolo set e ci alleniamo un modello sopra quindi i modelli non andranno a vedere il training set originale non andranno a vedere il singolo bootstrap set e si allena il modello e poi quando vogliamo fare inference banalmente diciamo che abbiamo questa figura di cui non sappiamo se è un cerchio o una croce in nero e la diamo in pasta a tutti i modelli allenati i modelli si daranno diversi risultati ad esempio il modello 1 ci dice un cerchio il modello 2 una croce il modello 3 ci dice un cerchio i vari k modelli si daranno varie informazioni aggreghiamo i risultati dei vari modelli magari prendiamo il risultato ogni giorno in questo caso su 3 abbiamo due cerchi e una croce ok allora il dato su cui vogliamo fare inference è un cerchio questo è molto banale è semplicemente bagging vediamo un esempio pratico l'ho preso dal libro Elements of Statistical Learning in cui si fanno qui qua vediamo in alto a sinistra colorato l'albero che avremmo ottenuto se lo avessimo allenato sul set originale e poi altri 11 alberi allenati su dei bootstrap set c'è anche riportato qual è il primo split ma non ci importa e guardiamo come performance la performance dell'albero originale va ad avere un test error di 044 che significa una cura di 0.66 quindi performa abbastanza male però se facciamo bagging dei vari altri alberi alberi che se presi singolarmente avrebbero sicuramente performato peggio di quello originale perché i bootstrap set i test set ottenuti tramite bootstrap sono set peggiori rispetto al set originale ma se facciamo bagging riusciamo a ottenere delle performance nettamente migliori e in giallo e in verde credo sia verde forse grigio su un daltonico non lo so ci sono due funzioni di bagging perché si usano due diverse aggregature comunque l'idea l'idea tiene far bagging ha delle performance migliori rispetto al migliore albero possibile e in basso vediamo il bias classifier le performance del bias classifier che è semplicemente il migliore classificatore possibile cioè non esiste nessun classificatore che può performare meglio di lui l'unica cosa è che per avere il bias classifier bisogna avere conoscenza sui dati a priori quindi bisogna avere conoscenza sulla distribuzione a priori dei dati quindi su un dataset costruito per fare un esempio lo sappiamo su su dataset non li sappiamo possiamo usare il migliore classificatore teorico e quindi stato dell'arte stato dell'arte almeno negli anni 90 abbiamo questo questi diciamo risultati da paper del 92 del 96 dove vediamo che Bagging 3 hanno un rank medio minore rispetto a tutto il resto ovviamente rank non mi ricordo a cosa si ripresce di preciso ma più basso è meglio è vediamo negli anni 90 le reti neurali performare malissimo e avranno il loro momento di gloria vent'anni dopo quindi almeno negli anni 90 abbiamo Bagging 3 molto buono svm usando un kernel specifico subito sotto poi kenner neighbor c4.5 non mi ricordo cosa sia quadratic discriminant analysis è un modello statistico e le reti neurali però torniamo a quelli che erano le precondizioni la precondizione numero uno diversità e se facciamo Bagging sugli alberi magari usiamo invece che darie propri alberi con una certa profondità usiamo dei cosiddetti stamp cioè semplicemente un albero profondo uno che ha una sola decisione e di fatto la diversità la diversità l'abbiamo diversi stamp avranno avranno split su diverse feature split su punti diversi quindi saranno effettivamente modelli abbastanza diversi e a sinistra la figura fa vedere un esempio su un dataset su un dataset tra linea blu e il risultato di usare Bagging con degli stamp non il massimo però se si usano alberi profondi o altro avrebbe performato meglio comunque per l'idea di diversità va bene come esempio però gli alberi non sono indipendenti tra loro questo deriva direttamente dal fatto che facciamo bootstrapping del training set originale e a livello intuitivo sappiamo che i vari training set sono correlati tra loro non sono cioè l'unica differenza scusa scusate l'unica differenza tra i vari modelli è il training set usato e il training set usato è correlato i training set usati sono correlati tra loro quindi non sono indipendenti comunque bagging ha dei risultati anche se c'è poca indipendenza ma possiamo fare di meglio introducendo appunto indipendenza e vi chiederai qualche idea però se non lo sapete a priori è una domanda abbastanza difficile quindi andrei su cosa si fa si fa randomized feature selection cioè per ogni per ogni set non solo avrà sotto insieme dei dati originali magari ripetuti ma avrà anche un un subset delle feature non userà tutte le feature ma solo un sotto insieme selezionato casualmente e provo a dare un esempio della vita reale immaginate di dover classificare se se in una casa vive un gatto un cane e magari data la stessa casa se una persona ha come feature solo la cucina magari nella cucina vede croccantini per gatti e dice ok in questa casa vive un gatto magari una persona ha la visione solo sulla feature del bagno vede una lettiera e dice ok qua vive un gatto magari la persona che ha la visione solo sul soggiorno e vede una cuccia molto grande dice ma secondo me qua vive un cane magari sbagliando però sono queste tre persone sono indipendenti anche se stanno guardando la stessa casa quindi far randomize feature selection abbassa la la correlazione ora se facciamo bagging e randomize feature selection usando come dei bonelli alberi quello che teniamo è uno dei modelli più famosi e cioè una random forest quindi se qualcuno si chiedeva perché una random forest fosse random perché i vari altri fanno randomize perché si fa randomize feature selection ora slide interesting facts chi non ha background può non capirci niente passerò veloce non posso fermarmi a spiegare ma ma secondo me è interessante comunque citarlo in un paper del 2020 si va a dimostrare che randomize feature selection va a indurre regolarizzazione in modo implicito ed è per questo che tornando a tot slide fa ok bag in una per forza randomize feature selection ma random forest si va a spostare verso sinistra con un po' di bias ma si va a spostare di molto verso sinistra il risultato cioè si va a diminuire molto la varianza ed è per questo che possiamo permetterci di usare anche alberi profondi perché la feature selection è abbastanza inizia e non abbiamo bisogno di far pruning o usare alberi poco profonde e altro fatto che gli ensembles con randomize feature selection sono fondamentalmente equivalenti in un contesto di machine learning a fare stocastic gradient descent e drop out questo perché a livello spiegato un po' così stocastic gradient descent invece di fare gradient descent su tutto il dataset va a fare gradient descent su un dato alla volta o un mini batch alla volta che è un po' idea di avere diversi diversi modelli con diversi dati e drop out che va a silenziare delle connessioni nelle reti neurali è un po' come andare a cioè le le connessioni che non sono state droppate è un po' come le le feature che sono state scelte a run anche questo in un paper abbastanza recente penso che non so perché non ho citato comunque pausa abbiamo parlato di bagging prima di passare a boosting se avete domande libere di farle intanto passiamo un po' al codice da la chat nessuna domanda ok passiamo abbastanza velocemente usiamo lo stesso data set di prima sostituiamo il decision tree classifier con il bagging classifier la documentazione e bagging classifier come parametri a base estimator che di fatto qual è il modello che usiamo per che modello andiamo ad allenare per ogni per ogni set e di default è un decision tree classifier però possiamo usarne diversi non cioè possiamo usare quindi su qualsiasi cosa dentro seek it learn e nestimators è il per parametro che decide quanti modelli usare quindi quanti bootstrap set creare creare max samples è un parametro per il bootstrapping che va a determinare quante copie dello stesso dato usare max features è di fatto randomized feature selection in cui però va di default uno usarle tutte oppure e quindi non farla non ma feature selection oppure se si vuole si può specificare di farlo usando meno feature poi i vari altri per parametri per fare bootstrapping e in realtà poche cose questo ob score non so bene cosa cosa faccio dice whether to use auto sample non lo so è lo stesso machine learning proviamo il default proviamo true vediamo cosa funziona meglio warm start è semplicemente se abbiamo un modello preallenato a cui vogliamo allenarlo ancora magari aggiungendo altri estimators e altri che altre informazioni altri dati standard si vuole parallelizzare random state e la livello di output ok anche qua iperparametri iperparametri standard vediamo come performa e performa decisamente meglio di un singolo altro e come come ci si aspetta come esattamente come questa slide dimostrava avevamo un singolo albero andava con una performance media di 0,82 fare bootstrapping ci porta una performance di 0,90 ok ora si kitlearn è semplicissimo quindi non ci passo sopra tanto tempo chiamate il modello seleziona dategli iperparametri di default se volete giocare cambiatele a vedere cosa succede poi chiami una funzione per far cross validation o fai uno split a mano però è meglio far cross validation soprattutto quando andiamo a comprare stiamo comparando bagging con il singolo tree per essere diciamo più per avere un'argomentazione più forte che bagging se meglio del singolo tree dobbiamo fare cross validation perché altrimenti dipende magari solo da la differenza in prestazioni magari dipende solo dallo split che scegliamo così siamo un po' più sicuri andando a fare la media su diversi split ok torniamo di nuovo a questa slide di bias variance trade off vediamo un altro modo un altro assemble e cioè boosting boosting per foro boosting in grado di abbassare sia il bias che la varianza dei modelli ed è praticamente migliore del modello base migliore di bagging e e qua dopo un'ora e venti iniziamo ad avvicinarsi a ex boost almeno come vicinanza di nomi ex boost contiene boost boosting e ok parliamo di un algoritmo di boosting quello più classico più famoso ava boost che è un algoritmo abbastanza banale in quattro step va a prendere un va a prendere il training set si allena un modello lo valuta lo 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 aggrega eventuali altri modelli poi in base al risultato di in base alla valutazione di un modello va a ripesare il training set originale e con il training set ripesato va ad allenare un altro modello che poi valuta e cicla ok spiegando così l'algoritmo vediamo un esempio che magari è più chiaro setup training data abbastanza semplice abbiamo abbiamo una singola feature abbiamo tre dati tratti sono hanno come feature 0, 1 e 2 e come come classe meno o più e noi vorremmo ovviamente allenare un modello ideale come quello sotto in cui andrà a colorare di blu lo 0 di rosso l'1 e di blu il 2 però in questo caso siamo come modelli base abbiamo fissato solo degli stamp dei tristamp che sono del tipo se la feature è minora di qualcosa colora in blu altrimenti colora in rosso o sulla feature maggiore di qualcosa colora in blu e colora in rosso questi stamp ci permettono di avere solo i modelli sotto in cui c'è un solo divisore tra rosso e blu in pratica mentre il modello ideale ha blu rosso blu mentre i i i i i i modelli base sono solo in grado di fare blu rosso oppure rosso blu in di lunghezze diverse a seconda di di dove è diviso quindi vediamo come a partire dai modelli dai possibili modelli base che possiamo ottenere usando questi stamp attraverso boosting riusciamo ad ottenere il modello ideale partiamo training set training set originale alleniamo il nostro modello e ci alleniamo usiamo un algoritmo di machine learning che ci si rende un output il modello base rosso rosso blu valutiamo il modello base rosso rosso blu vediamo che sbaglia il primo caso e ha corretti il ed ha corretti il il secondo e il terzo inseriamo questo modello all'interno della nostra aggregazione che poi vedremo crescere e modello che avrà un determinato peso k dovuto a quanto ha performato bene il modello ha fatto un 66% e avrà un peso proporzionale a partire da dal risultato di questo modello andiamo a ripesare il training set cioè facciamo in modo che i punti misclassificati male abbiano un peso maggiore quindi peso maggiore significa che classifica che un modello che classifica male i dati con peso maggiore è un modello peggiore rispetto a quello che classifica male quelli con peso minore quindi di fatto andiamo a spingere per allenare un modello che va a classificare bene quelli che erano i punti classificati male dal modello precedente e da questo da questo training set ripesato otteniamo magari quest'altro modello che classifica bene il primo caso e anche il secondo e male il terzo quindi lo valutiamo teniamo memoria del peso e aggiungiamo di fatto il modello alla nostra aggregazione avrà questo modello avrà una costante sempre proporzionale al come si è comportato bene come si è comportato bene rispetto al training set ripesato e banalmente andiamo avanti ripesiamo ripesiamo il training set questo caso ha sbagliato il terzo caso quindi aumentiamo il peso del terzo punto e continuiamo di fatto in loop diciamo ci fermiamo dopo tre tre iterazioni anche perché abbiamo un training set di tre punti di soli tre punti e diciamo ok abbiamo allenato usando adabust questo modello aggregato che possiamo poi estrarre quando facciamo inference banalmente prendiamo i dati prendiamo tutti i modelli pesati e vediamo che qual è il risultato che ci dà e di fatto la media tra questi tre modelli che erano degli stamp è il modello ideale il modello ideale banalmente perché nel primo caso abbiamo se vedete il primo abbiamo un rosso e due blu quindi lo zero verrà valutato blu il secondo punto ha due rossi e un blu quindi verrà valutato rosso il terzo punto ha due blu e un rosso quindi verrà valutato blu ed è di fatto il modello ideale usando modelli che non avrebbero di base mai potuto imparare il modello ideale quindi vediamo un po' di esperimenti di boosting lo confrontiamo con bagging e random forest e sempre qua si usa grazing boosting invece che alla boost ma l'idea è abbastanza simile e vediamo che boosting performa meglio anche delle random forest tra l'altro non solo boosting è una proprietà abbastanza particolare è in grado di diminuire l'errore nei test set anche quando l'errore nel training è già zero qua vediamo al crescere dei modelli base l'errore nel training set va a zero già a partire da tre o quattro modelli base però il test error continua a scendere questo è interessante perché non è qualcosa che capita per modelli statistici per modelli statistici avremo overfitting il test error non starebbe scendendo ma starebbe salendo al crescere dei modelli base quando il training error è già zero infatti un'osservazione è che mentre per modelli statistici al crescere dei parametri il test error prima scende e raggiunto un determinato punto torna a salire andando in overfitting per boosting apparentemente non succede questo è qualcosa di fondamentale anche perché diciamo le fondamenta di machine learning sono la statistica e la statistica negli scorsi 60 anni a base in cui si cerca di tenere basso un numero di parametri e si assume sempre che si hanno molti più dati rispetto a quanti parametri ci sono ma qualcosa di più moderno va a rompere diciamo quelli che erano i teoremi di tutti gli studi fatti nell'ambito della statistica proprio perché in statistica c'era l'assunzione dati maggiori di parametri qui andiamo a usare modelli in cui il numero di parametri è comparabile al numero di dati o addirittura maggiore diciamo che maggiore è una situazione abbastanza strana però però può cadere vedo qualcosa in chat provo ad aprirlo sono Nick scusate un secondo non è una domanda un saluto sì sì è che adesso non è scusato ok ok scusa sì cioè te lo chiedo così cioè se ho capito bene questo boosting fa una specie di campionatura nei modelli andando a trovare il miglior modello in uno spazio dei dati dove funziona meglio eh no boosting è itera itera modelli di fatto ripesa creando modelli che sono diversi e perché i modelli che allena sono sono modelli allenati specificatamente per 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 performare bene sui dati che i modelli precedenti avevano gestito male questo è la la fase di reweight è fondamentale perché ad esempio passare dal dal primo modello rosso-rosso-blu a blu-rosso-rosso e non provo a spiegarlo e diciamo il reweight avere il fatto che il primo dato che era quello che era stato classificato male diventa un dato importante e quindi i modelli successivi visto che quelli precedenti non erano stati capaci di classificarlo quelli successivi sono più invogliati a classificarlo bene quindi ogni modello che iterativamente viene allenato viene allenato per per funzionare bene su tutto ciò che i modelli prima facevano male ah ho capito si concentra ok sì e alla fine si fa una media di tutto in cui avremo modelli che si sono concentrati su su diversi dati e in cui se i dati venivano classificati male ci saranno più modelli concentrati su quelli su dati che invece sono solitamente classificati bene e ci sono meno modelli che sono concentrati su quello anche perché i modelli concentrati su altro sono lo stesso capace di classificare bene quei dati di questa è più o meno l'idea diciamo qualcosa di iterativo su cercare di migliorare quello che si è fatto fino adesso ok puoi chiedere chiarimenti di nuovo se non ho capito grazie ok ok sto andando qui è qualcosa di questa cosa di avere un alto numero di parametri in campo machine learning moderno banca a toccare le reti orali perché andiamo a vedere GPT3 GPT3 ha 10 alla 11 parametri ed è allenato su 10 alla 11 token che quindi dati più o meno uguali al numero di parametri e performa in modo incredibile ovviamente allenare tanti parametri è difficile richiede tante risorse e richiede tanti dati chiaramente avere 10 alla 11 parametri in alcuni casi reali in cui in numero abbiamo magari 10 alla 3 o 10 alla 4 dati allenare 10 alla 11 parametri è impossibile servono 10 alla 11 dati che sono una sfida ingegneristica non da poco però è la direzione in cui stiamo andando in ambito machine learning adesso avere tanti parametri tanti dati anche perché si hanno tanti dati di qualità alta che magari 30 anni fa non esistevano oltre che 30 anni fa era anche impossibile processarli quindi è un po' l'interesse moderno in cui chiamiamo machine learning machine learning e non statistica anche per queste cose qua e allora slide 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 che parla di interpretazioni spiegazioni di boosting e di ada boosting in particolare e se non capite alcuni termini ok serve è necessario un po' di background comunque provo a spiegarli dopo qualche figura e Friedman interpreta AdaBoost solo come un modello additivo stepwise con l'osso esponenziale quindi dà semplicemente un'interpretazione di come è diciamo l'esempio che ho fatto additive perché questi modelli si sommano stepwise perché si fa una volta e exponential loss per come sono i pesi per come viene fatto il reweight shepard shepard and froid non so come si pronunci interpretano boosting come un allenamento di maximum margin classifiers quindi interpretano un po' come svum dove però le svum sono comunque modelli lineari anche se si usa un kernel e ci si mappa a un feature space infinito comunque modelli lineari boosting permette di usare altri modelli che alla base non sono lineari come gli alberi e winner e altri nel loro libro spiegano boosting e adabust adabust e anche le random forest come i modelli che vanno a interpolare in modo spiky e che sono in grado di di auto pesarsi e ok per capire bisogna andare bisognerebbe andare a leggere 30 pagine del libro e e invece belking va a interpretare boosting va a interpretare in particolare il fatto che funziona bene con un grande numero di parametri per il fatto che con tanti parametri raggiunge un regime grazie a double descent e andando nello specifico cosa significa interpolating spiky model è un modello di questo tipo modello che interpreta i dati che quindi riesce andare a prendere con quelle punte riesce andare a prendere dei dati che magari sono fuori sono diciamo in mezzo all'altra classe alle altre classi ma e riesce a prenderli tutti in particolare questa linea verde avrebbe un training error pari a zero però lo fa in modo diciamo spiky quindi con delle punte molto strette e non lo fa andando a creare delle grosse curve che vanno a coprire un grande spazio questo fa in modo di avere una funzione che è smooth quasi per tutti i punti a parte alcuni posti in cui ha delle spike e anche se è qualcosa che interpola interpola e l'interpolazione non è vista bene perché di fatto in generale non è vista bene perché è di fatto overfitting i modelli spiky sono molto buoni perché si comportano per quasi tutto lo feature space in modo in modo in modo corretto tranne per per punti che sono diciamo negligible sono meno importanti basta la probabilità che uno spike crea un errore anche nei test set e oltretutto questo fa in modo che eventuali outliers o punti che verrebbero nel training set verrebbero misclassificati fa in modo che questi non abbiano influenza cosa che invece ad esempio nelle svm e diciamo qui i due punti i punti che vengono puntati dalle spike sarebbero dei support vector e quindi andrebbero a influenzare molto il modello mentre per interpolatori spiky questo non succede e questo va un po' a spiegare in questo caso qua anche quando abbiamo un training error pari a pari a zero non facciamo non facciamo non vediamo il test error salire e invece cosa si intende per double the set per double the set si intende un comportamento di questo tipo dove il test error in cui confrontiamo test error e training error ho scritto risk risch sarebbe il termine più corretto dal punto di vista statistico però pensate come se fosse error non cambia molto e nella parte sinistra vediamo un comportamento standard diciamo in cui il test error cala fino a raggiungere un minimo e poi a risalire in un regime di overfitting e il punto diciamo verde sarebbe diciamo il numero di parametri che avremmo scelto in statistica normalmente statistica però quando accade double the set sperimentalmente vediamo che a un certo punto il test error smette di crescere e torna a calare e non so se c'è non so quali siano spiegazioni matematiche a riguardo penso che la maggior parte siano osservazioni osservazioni sperimentali però andrebbe a spiegare come andrebbe a essere un comportamento plausibile col fatto che il test error continua a calare anche con un alto numero di parametri e ok adesso ho un quarto d'ora per parlare effettivamente del titolo della presentazione Exibus e non ho preparato in realtà non ho preparato nessuna slide perché il il sito è molto chiaro e magari ce lo leggiamo assieme Exibus sta per extreme gradient boosting quindi è di fatto quello di cui abbiamo appena parlato in qualche modo extreme e extreme banalmente significa che fa gradient boosting in modo diciamo meglio dei competitor e doveva porre attenzione ad esempio a problemi numerici dovuti alla rappresentazione dei float o di cose del genere va ad essere pieno di iperparametri e di configurazioni possibili poi vedremo che un modello Exibus sta cinque volte tanto gli iperparametri di un modello standard di SikitLearn e inoltre va a introdurre alcune feature che i competitor non hanno di regolarizzazione banalmente diciamo alla base fa gradient boosting di albere la prima parte va a essere un po' spiegazioni che abbiamo visto all'inizio con un altro esempio in cui va a far vedere nel caso nel caso si si va overfitting si vede della funzione regolizzatrice che ha un valore alto e nel caso in cui si splitta male la loss sarà alta e con un buon bilanciamento si riesce ad avere un un buon modello a parlare ensembles ok di qua abbiamo già visto vediamo come funziona nello specifico il boosting di di albere questa è la buona active function prova a spiegare adesso la matematica che so cosa fa additive training quindi il loop di boosting della slide precedente in cui ha vari y dove il numero tra parentesi sopra è qual è lo step nel loop cioè quale albero sta allenando va a vedere cioè più che la f sarebbe quale albero sta allenando la y sarebbe l'aggregazione degli alberi che è la somma la somma di la somma dove somma dipende dipende come definito di tutti gli alberi precedenti allenati insomma non voglio andare troppo nel dettaglio qua perché rispetto a quello che ho spiegato di boosting è matematica cioè è esattamente quello che ho spiegato ma in modo matematico usando le sue specifiche loss function e va a vedere che si può usare che che originalmente sarebbe pensato per usare min squared error ma è compatibile con qualsiasi loss a patto di di dargli la prima e la seconda derivata no credo sì no il primo e il secondo termine dell'espansione di Taylor della nostra loss function che quindi quindi questa è la forma generica che si può usare per tutte le loss function qua va a vedere prima e seconda derivata dell'espansione ok qua va a spiegare una cosa fondamentale di di exibust contro i competitor cioè la regolarizzazione e va infatti exibust a calcolare la diciamo c'è la matematica su come lo fa va a calcolare la complessità di ogni albero e con questo grazie a questa saprà andare a calcolare la complessità in generale del modello e per formare step di regolarizzazione classici come qualcosa equivalente al pruning o qualcosa equivalente all'early stopping e varie altre cose diciamo che che avevo letto che sono scritte qua e che non mi ricordo però diciamo che l'obiettivo è abbiamo il modello abbiamo la funzione in python possiamo usarla non bisogna per forza sapere tutta la matematica che sta dietro però sapere qual è l'idea di base il maiembolo quindi inutile che è per questo che che insomma è l'obiettivo di questa serata qua va a fare delle semplificazioni va a far vedere parametri di regolarizzazione va a dimostrare che fa più o meno l1 più l2 quindi un po' come elasticnet per per la linea regression e introduce un concetto di gain e sul così su tutto l'ensemble che va a essere sostituito diciamo all'information gain di cui abbiamo parlato all'inizio serata adesso meglio che vado veloce pochissimo tempo quindi Exibust è bene è tanto bello qua dice parlando dal lato utente perché effettivamente bello primo performa incredibilmente bene ha delle accurazioni particolarmente alte adesso possiamo andare magari a vedere codice in cui vado ad allenare un Exibust classifier vediamo che ha tutto un set di iperparametri che possiamo settare con questi possiamo giocare e proviamo ad allenarlo usando 1000 estimators che è un numero un po' troppo alto rispetto al nostro problema che era abbastanza stupido però magari lo porto a 100 così ci mette di ok vediamo che performa meglio che bagging come aspettato magari lo confrontiamo con un multilayer per subtrano dentro quello che sta dentro city aspettiamo chiaramente e ok vediamo che una neural network performa meglio rispetto a Exibust non così tanto meglio però e e quindi diciamo che in caso di competizione che magari sceglie quello che performa strettamente meglio in un caso reale ci sono altre cose da tenere in considerazione e una delle diciamo cose fondamentali è quanto la nostra soluzione quanto siamo in grado di spiegare la nostra soluzione al cliente e diciamo che per spiegare Exibust è relativamente facile perché è basato sugli alberi e di fatto è un insieme di alberi quindi è basato su seguire un certo percorso e scegliere se andare a sinistra o a destra e la scelta di andare a sinistra o a destra è motivata dal training set da motivazioni anche abbastanza semplice del tipo così otteniamo tante informazioni così ne otteniamo di meno mentre spiegare come funziona una retina orale è un problema diciamo che è fondamentalmente il problema principale delle reti neurali in generale sì Marco infatti questo qui è un tema diciamo no no mi allaccio un attimo al discorso diciamo l'albero singolo è un modello insomma già col tuo disegno si capisce subito appena però già ci siamo spostati qua con l'UGBoost alla fine questo è un insieme di alberi quindi magari c'è la rappresentazione vera e propria del percorso che ha fatto il diciamo l'algoritmo per arrivare all'output cioè non è perfettamente comunque rappresentabile cioè a parità della neural network alla fine non so allora sì è vero che non è facile spiegare come l'albero singolo però è credo direi esponenzialmente più facile rispetto a neural networks perché adesso non ho nessuna immagine avrei dovuto recuperarla ma l'output di XGBoost è comunque se andiamo a colorarlo diciamo come ho colorato all'inizio per l'albero semplice andiamo a colorarlo così XGBoost comunque va a creare dei rettangoli e quindi va a splittare diciamo il feature space in modo abbastanza semplice la neural network no e diciamo cosa diciamo cosa significano i parametri interni di di una neural network cosa significa il valore che hanno è è un problema mentre se vai a vedere un parametro di di XGBoost è comunque un parametro di un albero è comunque una linea che dice vai a sinistra o a destra rispetto a una feature o o in diagonale poi si usano più feature ovviamente il numero di parametri di XGBoost non è piccolo e vengono computati in modo non super banale non è spiegabile super banalmente ma almeno qualcosa sai i parametri di di una neural network e boh l'intuizione tu dici l'intuizione comunque è enormemente più comprensibile almeno rispetto a una neural network insomma si cioè non diciamo anche schematicamente i vari layer così soprattutto magari quando si parla poi di strutture più complesse poi per fare task più magari non su un dato tabulare ma di computer vision sicuramente già lì bisogna preparare l'interlocutore ecco è che più che altro le reti non orali puoi spiegare qual è l'idea che ci sta dietro puoi spiegare come funziona il training a qualcuno che è disposto a imparare qualcosa del genere che non è banale e gli spieghi che vai a minimizzare il gradiente va a scendere nelle valli magari con qualche visualizzazione viene bene e quindi spieghi come la rete impara i parametri però non si è in grado di spiegare cosa i parametri significano cioè non si è in grado di spiegare cosa stia facendo la rete internamente una volta già allenata mentre XGBoost comunque puoi spiegare che internamente sta semplicemente scegliendo di andare a quale percorso seguire in base a a un divisore verticale orizzontale o superficie ok non so se ci sono altre domande però ok se ero più veloce pianificavo di giocare un po' con questo dataset però ero totalmente fuori quindi vabbè può essere un buon punto poi sicuramente sarà a disposizione questo Jupyter notebook quindi per per noi magari possiamo benissimo partire magari con i tuoi snippet di codice e poi provare a giocare appunto con quel dataset che c'hai linkato di Kaggle e magari vincere anche qualche competizione magari per avere XGBoost che batte una rete neurale si vuole un po' di lavoro di preprocessing livelli feature non so in aggiunta diciamo con le esperienze diciamo che i modelli basati su alberi hanno grandi punti di forza su essere anche resistenti agli outlier e saper gestire i NAN senza dover fare senza dover cercare di riempirli in qualche modo e essere resistenti anche alla dimensione dei dati mentre se anche solo in questo dataset vado a rimuovere lo standard scaler la rete neurale performa decisamente pezzo per un'occhiata mentre sboost andrà a performare uguale quindi può essere ok in questo dataset non performa pezzo però su altri dataset performa molto peggio in una rete neurale su dati non scalati mentre XGBoost non gliene frega quasi niente quindi è forte anche su quei punti lì poi ovviamente prendi dataset di esempio dentro il sit git learning in cui anche un albero normale va a 0.82 non è così informativo però insomma diciamo che già il fatto di non fare imputation già il fatto di insomma poter lavorare su un dataset ampio o comunque di non preoccuparsi di scalare le feature che hanno insomma ordini di grandezza completamente che si discostano comunque cioè ci risparmia diciamo un bel po' di di grattacapi ecco diciamo così poi va bene voglio dire questo che a me è piaciuto molto anche quel testo che hai citato di James Suroviecki dove si capisce che i grandi gruppi penseranno in modo più accurato persino degli individui apparentemente esperti e questa è una cosa che forse dovremmo anche noi un po' noi uomini e donne imparare da questa scienza perché mi sa che pochi lo fanno lo sanno lo fanno sì grazie chiaramente ha altri tipi di costi non so burocratici eccetera ma va bene speriamo se non ci sono domande io ne approfitto per ringraziare ancora Marco che ha saputo comunque affrontare appunto temi che abbiamo visto come la dimostrazione matematica di XC Boost richiedesse comunque dei concetti che lui ha spiegato partendo dalle basi in modo direi molto chiaro e per questo lo ringrazio a nome di tutti quindi devo dire che ho apprezzato il fatto che nonostante siamo arrivati a parlare di XC Boost solo negli ultimi 20 minuti però le tue slide precedenti sono stati dei prerequisiti che ci hanno permesso di capire i fondamenti su cui si basa quindi volevo dire che ho apprezzato questo fatto e credo che l'abbiano apprezzato tutti quindi niente ringrazio quindi te e tutti coloro che sono ancora collegati come sempre la registrazione sarà presente fra qualche giorno su YouTube e buonanotte direi ringrazio io per avermi dato occasione avevo voglia di un po' provare a spiegare anche se non era più che altro volevo fare qualcosa di diverso dal tutorial classico di machine learning cui scarichi i dati prendi il modello e vedi cosa fa ti ringraziamo ancora grazie mille buonanotte e a presto e Grazie.